Buonasera, mi sentite? Allora io sono, come diceva Matteo Stefano Massari, per mestiere faccio il mental coach, cioè lavoro sulla parte mentale ed emotiva delle prestazioni dei miei clienti che sono per il 90% degli atleti. Per me è molto importante che nei percorsi di coaching le persone con cui lavoro acquisiscano consapevolezza delle proprie forze. Cosa intendo quando dico forze? Intendo le qualità umane che possiedono, il coraggio, la perseveranza, cioè la capacità di resistere alle difficoltà, la creatività, la sensibilità, l'amore per la bellezza e per le cose fatte bene e così via. Oggi sono qua per parlarvi di un tema che soprattutto di recente ho attraversato varie volte con i pensieri, che è l'importanza di accorgersi, in particolare di accorgersi della felicità e dell'infelicità. Come vedremo facciamo molta fatica ad accorgerci quando siamo felici, ci accorgiamo quando siamo infelici ma con l'infelicità abbiamo un rapporto complesso, ovviamente, essendo infelicità. Non è strano? Credo che essere consapevoli di questi due stati d'animo ci possa aiutare a vivere con maggiore serenità la vita di tutti i giorni e secondariamente a accorgersi della felicità e dell'infelicità un impatto sulle nostre prestazioni. Quanti di voi hanno letto un libro di Kurt Vonnegut che si chiama Quando siete felici fateci caso? Uno. Ciao. Kurt Vonnegut è un autore americano che a me piace molto, che purtroppo è morto nel 2007 se non sbaglio, che ha scritto questo libro. Questo libro è in realtà una raccolta di discorsi che Kurt Vonnegut faceva per gli studenti, per i neolaureati dei college americani. In questo libro, in due o tre momenti, parla di suo zio Alex. Non l'ho mai visto lo zio Alex, ma è come se lo conoscessi, mi sembra senz'altro un personaggio simpatico. Questo zio Alex diceva spesso a suo nipote che bisognerebbe fare caso a quando siamo felici. Ci sono due osservazioni che mi piacciono rispetto alla felicità così come la intendeva lo zio Alex. Da un lato lui diceva quando siamo felici non dobbiamo pensare a, non so, quando ci nasce un figlio oppure, non so, un matrimonio, una promozione importante, no, felicità dei piccoli momenti. E faceva degli esempi, ci sono degli esempi sul libro e mi viene da ridere a pensare che il primo esempio, anche qui, parla di un limone, abbiamo già visto due interventi, però è così. Come dice il mio amico lì, c'è la mafia dei limoni evidentemente. E lui diceva, lo zio Alex diceva quanto è bello bere un bicchiere di limonata sotto l'ombra di un albero, per esempio. Un altro esempio che faceva è passeggiare per strada e sentire il profumo del pane appena uscito da un forno in una panetteria. La seconda cosa che trovo tanto interessante della felicità per lo zio Alex è che lui diceva che questa felicità andava comunicata. Io me lo immagino questo signore sotto l'albero che si beve la limonata e poi dice a suo nipote, ma cosa c'è di più bello nella vita? In realtà non siamo molto bravi noi in questo. Abbiamo dei problemi ad accorgerci della felicità. Credo che sia un problema molto culturale, cioè dalle scuole elementari, anzi prima dall'asilo a quando andiamo in pensione incontriamo un sacco di gente che sostanzialmente ci dice cosa non sappiamo fare e come non sappiamo essere. Qui non è che è solo difficile notarla la felicità, è proprio difficile provarla. C'è una sorta di caccia in qualche modo alla mancanza, al difetto, a ciò che non funziona. Pensate per esempio, ci pensavo proprio oggi venendo qua, quando una professoressa, un professore d'italiano, tra l'altro svolgono un lavoro di un'importanza secondo me assoluta, leggono un tema, loro hanno una penna rossa per segnalare gli errori, poi hanno la penna blu per gli errori gravi, però non hanno una penna verde per segnalare quello che gli è piaciuto di quel tema, un pensiero buono, non c'è. Quindi abbiamo proprio difficoltà a vedere le cose buone. Per cercare di riequilibrare questa, diciamo, più che tendenza, questo fatto, da un lato io vi propongo di immaginare, forse di ricordare anche più che di immaginare qualche momento, un po' come quelli di cui parlava allo zio Alex, in cui vi siete sentiti felici per qualcosa di semplice, per un istante, anche solo magari. E mentre lo fate vi racconterò un momento a cui io ho pensato quando ho letto per la prima volta il libro di Kurt Vonnegut. Dunque erano le vacanze di Natale di molti anni fa, quando ero giovane, quindi forse 1723. Non hanno riso in tanti, mi sa che dimostro 300 anni, o faccio male le battute, tutte e due le cose forse. Ero a Sirolo con un mio carissimo amico che adesso siede qua in prima fila. Avevamo appena cenato in una trattoria che faceva dei ravioli buonissimi, c'era questa cuoca, mi ricordo si chiamava Dionea, era una specie di divinità per noi. Ed eravamo a casa sua, stavamo bevendo un bicchiere di vino rosso, lui aveva messo una musicassetta, allora non c'erano i cd, non parliamo di YouTube, la musica, una musicassetta Bruce Springsteen, un pezzo di Bruce Springsteen che si chiama tuttora The Ghost of Tom Jode, bellissimo. E mi ricordo che io in quel momento gli dissi, ma secondo me noi siamo nati per essere qui oggi a parlare delle nostre cose, a sentire questa musica qua. Mi è venuto in mente quel momento lì, non so se a voi sono venuti in mente altri momenti. Quello che riguarda il mio mestiere più direttamente è che quello che noto è che questa capacità di notare e persino di sottolineare col corpo e con la voce, ciò che funziona, la felicità o ciò che non funziona, ha un impatto sulle prestazioni. Vi racconto proprio di un episodio, dunque era il 2019, io ero a Londra perché ero andato con Matteo Berrettini e il suo team alle finals, Matteo era tra gli otto giocatori più forti del mondo e giocava alle finals, che è il torneo di fine anno tra gli otto giocatori più forti del mondo. Stavo guardando una partita con l'allenatore di Matteo, Vincenzo Santopadre, tra Medvedev e Nadal. Erano 5 a 1 per Medvedev al terzo set, non so chi di voi si intende di tennis, ma ve la faccio facile, a tennis vince chi arriva a 6, 5 a 1, quindi era quasi finita. Nadal riesce a vincere il game del 5 a 2, 5 a 2, cioè Medvedev continuava comunque a essere molto favorito. Medvedev inizia a insultare il suo angolo, il suo allenatore, il suo preparatore atletico, è nervosissimo, butta la racchetta, si siede al cambio di campo veramente molto nervoso. Nadal, che ha due, è molto sotto, invece si carica, è contento di aver fatto quel due e si vede da come cammina, che è a fiducia. Mi ricordo che con Vincenzo in quel momento ci siamo detti, se Medvedev non cambia atteggiamento, rischia di perdere, e infatti perse. Quindi quello che io credo fortemente, perché lo vedo succedere tante volte non solo nel tennis, anche in altri sport, è che il modo in cui noi trattiamo la felicità o l'infelicità e le cose buone o non buone che attraversano la nostra strada, influenzano le nostre prestazioni. Vi ho detto che avrei parlato anche dell'infelicità. Vi racconto a proposito di infelicità un episodio breve della mia vita. Dunque era il lockdown del 2020 e io stavo facendo un piccolo seminario con dei giovanissimi tennisti, seminario online ovviamente, perché allora non si poteva fare altrimenti. Uno di questi ragazzini mi dice che lui ha una grandissima tensione quando entra in campo, è una grandissima tensione nei momenti importanti della partita. E mi chiede se io posso aiutarlo a non averla. E io gli dico no, non posso aiutarti a non essere teso, perché in quei momenti devi essere teso. In realtà quel bambino mi chiedeva una cosa in maniera molto esplicita che mi viene chiesta delle volte in maniera esplicita, molto più spesso in maniera implicita, un sacco di volte. Mi chiedeva di non vivere le emozioni difficili, la tensione in quel caso, la paura, la rabbia, la tristezza. Pensate quante volte avete detto o vi è stato detto non essere triste, non avere paura, non essere arrabbiato o arrabbiata. Ora, al di là del fatto che questo tipo di pensieri non ha alcun senso perché nessuno di noi è in grado di decidere che stato d'animo provare, figuriamoci se lo può decidere qualcun altro per noi. C'è poi un altro aspetto che è poi implicito nella risposta che ho data al ragazzino e l'altro aspetto è che non ha senso sperare che non ci sia la tensione o la paura o la rabbia, bisogna solo cercare di gestirle, bisogna prendere atto che ci sono e cercare di farci i conti. Oltre a tutto, delle volte sono funzionali. A proposito del rapporto difficile con questo tipo di emozioni, vi racconto un altro episodio. Io lavoro con un tuffatore molto bravo, un ragazzo di grande intelligenza, grande vitalità e grande simpatia, una persona sensibile. Quando l'ho conosciuto anni fa, questo ragazzo mi diceva, io mi alleno benissimo, sono felice della mia vita, va tutto bene, vado in gara, sono tranquillo, però nei momenti decisivi sbaglio. In realtà mi diceva una bugia, ma perché se la diceva anche a lui, non era vero che era tranquillo in gara, solo che aveva talmente paura, che non se lo diceva di avere paura. Gli faceva talmente paura la sua tensione, la sua paura, che preferiva dirsi di star bene, ma non poteva funzionare perché nei momenti decisivi la paura veniva fuori. Abbiamo lavorato su questa cosa qua e mi ricordo un allenamento in cui quel lavoro è diventato proprio cosa, è diventato azione. Lui aveva una gara, una gara da lì a poco e doveva provare un tuffo, un tuffo molto difficile per lui. Io gli chiesi in quel momento lì, lo fermai e gli dissi pensa di essere in uno stadio pieno di gente, senti la tensione di quel momento, era un ragazzo che era allenato a visualizzare, cioè a immaginare cose del genere. E lui fece per tre volte il passo fino alla fine del trampolino e per tre volte tornò indietro. La quarta volta si tuffò e fece un bel tuffo. Poi venne da me contento e mi disse ce l'ho fatta, però che fatica che ho fatto. In realtà era per quello che lui non si diceva di avere paura perché stare nella paura è faticoso, però secondo me non c'è un'altra via. Dal lato opposto ci sono invece atleti che pur di non fare i conti con la paura la trasformano in panico. Poi io coinvolgo magari degli psicologi, degli psicoterapeuti e viene fuori che non è panico, ma preferiscono parlare di panico perché col panico loro non ci possono avere niente a che fare, è panico. No, no, è paura. Ci puoi stare nella paura. In tutti e due i casi c'è la difficoltà di confrontarci con un'emozione che non voglio neanche definire negativa perché non lo è, un'emozione difficile, da un lato negandola il tuffatore, dall'altro esagerandola quegli altri. I campioni, anche qui vi faccio un esempio, nel 2019 Matteo Berrettini giocava la partita più importante della sua vita agli US Open. Stava per vincerla dopo quattro ore di battaglia, doveva servire per il match, aveva un match ball che vuol dire nel tennis che se vinci quel punto hai vinto tutto. Il colpo più forte di Matteo è il servizio. In quel momento Matteo, il momento più importante della sua carriera, sbaglia due servizi, perde il punto. La cosa interessante è che se vedete le immagini su YouTube vedete che dopo quell'errore che fa? Sorride. Sapete perché? No, ovviamente, ve lo dico io. Sorride perché pensa, te la sei fatta sotto. Era il momento più importante della sua carriera e te la sei fatta sotto. Ti credo che te la sei fatta sotto. Questo stato d'animo, sommato alle sue straordinarie capacità, gli ha permesso di vincere quella partita poi e di essere poi sconfitto la partita successiva da Natale in semifinale, avendo comunque fatto il risultato più importante della sua carriera. Mancano due minuti e venti secondi. Li voglio usare per raccontarvi quello che mi è successo oggi. Ma veramente, è successo veramente. A proposito di felicità e di infelicità. Allora, stamattina alle 6 e 30 sono a stazione Termini perché devo prendere un treno che parte alle 6 e 40. Scopro che il treno è partito alle 6 e 15. Pensate, io avevo appuntamento con 450 persone, ma il treno è partito 35 minuti prima del previsto. Mi girano le scatole e me ne accorgo, faccio caso alla mia infelicità. Cerco di prendere un altro treno, ovviamente, perché caspita, devo venire qua, no? Il primo treno possibile è alle 17 e 30, cioè adesso. Per la seconda volta faccio caso alla mia infelicità. Uso ovviamente dei francesismi, nel senso che... Dopodiché esco dalla sezione e dico, ok, compro un biglietto di aereo, compilo un form complicatissimo, sto veramente lì, poi potete immaginare, non ero, diciamo, di buonissimo umore, mi chiedono il codice digitale, il mobile code. Il mio private banker due giorni fa mi ha dato un nuovo mobile code, perché quello vecchio non funzionava. Avete già capito che non funzionava neanche quello nuovo. Di nuovo faccio caso alla mia infelicità. Però, per fortuna, alle 7 e 15 del mattino, il mio amico Nicolò, quello di Sirolo, quello delle chiacchierate di Bruce Springsteen, è sveglio. Lo chiamo, gli racconto la storia e lui mi compra il biglietto. Io vengo qui, mi sento felice e ci faccio caso, anche grazie a Nicolò.